Luca Sanseverino, nuovo direttore artistico di Shortini Film Festival, quindi novità quest'anno per Shortini, non solo cinema ma anche attività culturali e artistiche che ruotano attorno a tutta quanta la location, che quest'anno sarà la villa comunale, quindi i giardini pubblici di Augusta, con loro fascino e tutto quello che esprimono, secondo come avete detto durante la conferenza stampa, poesia e fascino, rispetto a tutto quello che ci può essere di positivo nella nostra città. Cosa dovremmo fare ancora di più per convincere i nostri concittadini a uscire di casa e a valorizzare un festival internazionale di cortometraggi, quale è Shortini Film Festival, ed essere orgogliosi di quello che è? L'obiettivo alto del festival è quello appunto di generare una passione, una sensibilità verso il mondo delle arti in genere, nello specifico del cinema, e risvegliare quella esigenza naturale che è insieme in ognuno di noi nei confronti di tutto ciò che ci circonda. L'arte è qualcosa di innato dentro l'uomo e speriamo che la cittadinanza di Augusta possa attraverso questi quattro giorni risentire quel calore interno che li porterà presenti all'interno dei quattro giorni della manifestazione, del concorso di Shortini e riscoprire qualcosa che in qualche modo contrasti quell'appiattimento culturale che purtroppo dà troppo tempo dalle nostre parti vigente. Durante la conferenza stampa avete marcato fortemente due parole che sono mafia e legalità. Ci viene in mente che forse è il motivo per cui avete cercato di inserire all'interno del festival, l'internazionale dei cortometraggi, attività culturali, quindi mostre di scultura, di pittura, i bambini, quindi l'attività dei bambini. Tutto questo forse perché credete che grazie alla cultura e all'arte si possa sconfiggere l'illegalità e la mafia? In realtà mi viene in mente uno spezzone del film Cento Passi in cui l'attore Luigi Locascio, che personifica Peppino Impastato, dice al suo amico che la bellezza è importante, la percezione di ciò che è bello è importante, perché in realtà solo coloro che possono apprezzare la bellezza vanno naturalmente contro ogni forma di mafia e illegalità. Quindi invitiamo allora tutti i cittadini quest'anno a Shortini per dire anche no alla mafia e alle legalità e alla bellezza.